Da alcuni anni ormai la politica sta cambiando. In molti paesi occidentali guadagnano sempre più consensi, idee, partiti e candidati molto diversi da quelli che abbiamo conosciuto finora. Nel 2016 abbiamo visto i primi segni tangibili di questa trasformazione, il voto sulla Brexit e l'elezione di Donald Trump. Due siti che apparivano fantascienza fino a pochi mesi prima. Schiere di osservatori, politici e giornalisti hanno tentato di trovare una spiegazione all'emergere di queste forze, spesso definite populiste. In molti hanno puntato il dito contro le bufale e le notizie false diffuse sul web da parte di siti più o meno vicini a questi movimenti. Si è arrivati a parlare di politica della post-verità, in cui i fatti oggettivi passano in secondo piano rispetto alle emozioni e alle convinzioni personali. Le bufale hanno avuto certamente un ruolo, ma l'ascesa del populismo sembra essere spiegata meglio con il crescente risentimento per le élite e per una classe dirigente incapace di affrontare la crisi e il lento ma costante declino delle economie occidentali. Problemi come la globalizzazione e l'immigrazione sono molto sentiti, specialmente dalla classe media, che sta vedendo i propri salari restringersi e il lavoro diventare sempre più precario. È proprio la spiegazione economica al populismo che vogliamo approfondire in questo video. Iniziamo il nostro ragionamento partendo da un libro, Postcapitalismo, scritto dal giornalista inglese del Guardian, Paul Mason. In questa sede però la tesi di fondo sostenuta da Mason non ci interessa. Ciò che ci importa è la sua analisi sull'evoluzione dell'economia negli ultimi secoli. È dato per assodato dagli studiosi che l'economia si muova per cicli della durata di pochi anni, periodi di espansione e di crescita seguiti da periodi di depressione e crisi. È una teoria più minoritaria invece quella per cui questi cicli brevi si inseriscono in cicli più lunghi, della durata di 50-70 anni. Questi ultimi si sviluppano in forma di onde, le cosiddette onde di Kondratyev, dal nome dell'economista russo Nikolai Kondratyev, che le ha ipotizzate per primo. Mason mescola la teoria delle onde lunghe con alcuni elementi della tradizione marxista, spiegando che un'onda inizia dopo un periodo turbolento con guerre e rivoluzioni, in cui i capitali si sono accumulati nel settore finanziario e sono state inventate nuove tecnologie, che però hanno avuto difficoltà ad affermarsi fino a quel momento. Con l'inizio della fase ascendente dell'onda, i capitali si riversano nell'economia reale e nascono nuovi modelli di impresa basati proprio su quelle innovazioni incubate nel periodo precedente. Inizia così una fase di prosperità e crescita in cui risulta accettabile ridistribuire la ricchezza verso le fasce più povere della popolazione. Arriva però un momento in cui tutto ciò si interrompe. All'improvviso ci si accorge che le aspettative per un futuro florido come il presente possono essere sbagliate. Ci si rende conto che la crescita attesa in molti settori non si verificherà e che i capitali investiti troppo alla leggera non saranno più ripagati. Ci si avvia quindi verso un periodo di incertezza sui mercati, sulle monete e sugli asset globali. I salari vengono colpiti e lo stato sociale è ridimensionato. I capitali ritornano ad affluire verso il mondo della finanza. Le crisi si fanno sempre più frequenti e profonde, spianando la strada a conflitti e guerre. E alla fine un'altra onda prende il sopravvento. Dalla prima rivoluzione industriale gli economisti individuano 4 o 5 cicli a seconda dell'interpretazione a cui si fa riferimento. Ogni onda però è diversa dalla precedente. Ogni ciclo porta con sé un sistema socio-economico del tutto nuovo. Scrive Mason che il momento della mutazione è fondamentalmente economico. È l'esaurimento di un'intera struttura, modelli d'impresa, insieme di competenze, mercati, valute, tecnologie e la sua rapida sostituzione con una struttura nuova. Forse è il caso di fare un esempio. Il ciclo in cui ci troviamo ora è iniziato subito dopo la seconda guerra mondiale. Già prima del 1945 erano state compiute invenzioni e scoperte molto importanti, ma il conflitto mondiale causato anche dagli squilibri economici e finanziari precedenti aveva impedito che espremessero il loro potenziale. Nel dopoguerra si creò da zero un nuovo sistema economico, basato su nuove tecnologie come l'automazione delle fabbriche, nuove fonti energetiche come il petrolio e su un nuovo paradigma economico, costituito dal fortunato connubio di libero mercato e protezione sociale da parte dello Stato. Ciò ha garantito una lunga fase di prosperità. Lo stadio ascendente dell'onda si è però concluso nel 1973. La crisi petrolifera ha avviato la fase discendente, in cui i salari hanno smesso di crescere e gli investimenti sono passati dai settori produttivi al mondo della finanza. Ora resta da capire un ultimo punto. Cosa provoca la fine di un ciclo e l'inizio di un altro? Cosa riscatta l'economia da un lungo periodo di declino e la mette sulla strada di una rinnovata prosperità? Paul Mason cerca la risposta a queste domande nell'azione delle classi sociali. Come abbiamo detto, nella parte calante di un ciclo assistiamo ad un restringimento dei salari e del welfare. Quindi la classe media è quella su cui ricade di più il peso della recessione economica. L'apertura di un nuovo ciclo avviene quando questo peso diventa insostenibile. I lavoratori si rivoltano e il sistema è costretto ad una trasformazione radicale. Dice Mason, lo Stato è costretto ad agire, formalizzando nuovi sistemi, incentivando le nuove tecnologie, fornendo capitali e tutele a chi innova. Fermi tutti. Perché abbiamo parlato di tutto questo? Per spiegare la scelta del populismo. Perché a quello cui stiamo assistendo è molto simile a quanto previsto dal modello di Mason. A partire dagli anni 80 i salari nei paesi occidentali sono cresciuti molto poco e la ricchezza si è spostata sempre di più verso le rendite e i profitti della fetta più ricca della popolazione. A partire dalla crisi economica del 2008, la classe media ha visto il proprio tenore di vita sprofondare. Molti hanno perso il lavoro e chi l'ha mantenuto ha dovuto accettare condizioni lavorative decisamente più precarie. Le nuove generazioni hanno davanti un futuro che rischia di essere peggiore di quello della generazione precedente. Per questo molti oggi se la prendono con la globalizzazione e l'immigrazione che diventano dunque i bersagli preferiti di Trump, dei sostenitori della Brexit e di tutte quelle forze anti-establishment che spuntano come funghi in Europa. Laddove la politica tradizionale sembra aver finito le cartucce senza riuscire a portare un vero cambiamento, gli elettori decidono di dare una chance a chi rappresenta la novità e la rottura col mondo precedente. Questi nuovi soggetti, tuttavia, non sembrano avere a portata di mano le soluzioni necessarie. Le loro proposte, quando esistono, sono confuse e parziali. Il loro immaginario si rivolge al passato, si rivolgono ad elettori nostalgici di un mondo che era facile comprendere mentre sono spaventati dalle sfide del presente. Come nei momenti finali di un ciclo, oggi esistiamo innovazioni straordinarie nei campi di internet, dell'intelligenza artificiale, della stampa 3D e delle energie rinnovabili. Ma il mondo di oggi non sembra ancora pronto per raccoglierle. Inoltre, servirà altro tempo prima di poter toccare con mano il loro immenso potenziale. Quindi forse il populismo è solo una fase di passaggio, superata la quale conosceremo l'inizio di un nuovo ciclo e di un nuovo periodo di benessere, con prospettive che ancora non possiamo immaginare.